Lo sport torna ad attualità la vicenda della ristrutturazione del Palabarton, duro sfogo del presidente Sirci che lamenta ritardi nei lavori e minaccia di portare la squadra altrove. La replica dell'amministrazione comunale ci dice tutto Luca Pisinicca. Avevano detto che settembre-ottobre cominciavano i lavori e non si è dato di capire niente. Noi nel 2018 abbiamo vinto la Supercoppa, la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto richiesta al comune di un palazzetto di 5.000 posti. E' venuto fuori che hanno perso degli anni, dopo 4 anni e mezzo ancora da questa richiesta, ancora non abbiamo visto niente. E noi lo vedremo, perché non mi si dica che vorranno fare i quattro spicchi contemporaneamente, perché dovranno essere fatti eventualmente contemporaneamente, che lo facciamo durante questo inverno. Il comune ci ha mandato una lettera che bisogna avere pazienza e perciò noi pazientiamo, ma sono 4 anni e mezzo che pazientiamo. Ma c'è anche un rischio che la Sir possa andare a giocare altrove? Ma questo è evidente, perché noi altri dobbiamo metterci su una situazione dove, vuol dire, di essere amati, voluti, di avere una casa. E la nuova casa della Sir, Susa Perugia, potrebbe non essere poi così lontana. Gino Sirci, proprio dal nostro nuovo format sportivo Parliamo di Sport, ha preso dalle parole del presidente del Rossoverde Bandecchi, patron anche del nuovo Ternana Palaeventi, della possibilità di essere ospitato nella struttura ternana. A Terni stanno completando un palazzetto di 5.500 posti, quindi chi vuole capire, capisca. Allo sfogo del presidente Sirci fa seguito l'immediata replica dell'amministrazione comunale. Non è però accettabile una battuta così forte del presidente che dimentica del tutto un passato complicato, ma peggio ancora, andando a cancellare anche l'impegno costante dell'amministrazione e gli eventi calamitosi degli ultimi anni. Pandemia, caro materiale e attualmente una guerra internazionale con il conseguente caro energia. Quindi è impossibile in questo momento ipotizzare una tempistica, perché oltre a sfogarsi il presidente vorrebbe capire che tempi ci sono per l'ampliamento del Palabato. Non è stata fornita per via dell'impresa che sta attuando questo cronoprogramma. Del 17 ottobre o poco più avanti si potranno iniziare i lavori. Quindi lei garantisce, tra virgolette, che entro la fine del 2022 potrebbero iniziare? Assolutamente sì.